Eccoci qua, buongiorno a tutti, oggi facciamo una passeggiata e andiamo alle Gualchiere. Allora, è un antico insediamento paleindustriale capace di sfruttare l'energia della corrente del torrente Gualchiere, sufficiente per far muovere le macine del molino della Gualchiera, per follare e tingere la lana, per tagliare il legname che vi affluiva dall'alpe. Il molino e le Gualchiere sono documentati dal 1545. Ragazzi, adesso, oggi, andiamo a fare questa nuova avventura a due passi da bagno di Romagna. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.